Siamo qui con Mattia Mustacchio al termine di Proverciali Giannale Minio 0-3. Mattia, le parole sono difficili da trovare per commentare la partita di oggi. Sì, è difficile trovare le parole perché brucia e che siamo in un momento di difficoltà, lo possiamo ammettere, ne siamo consapevoli, è un momento in cui probabilmente non stiamo rendendo quanto possiamo, è un momento in cui gli episodi non ci girano a nostro favore, voglio evitare di parlare di situazioni arbitrali oggi perché penso sia sotto gli occhi di tutti, non voglio neanche perché penso sia al limite del ridicolo. voglio parlare che, quello che voglio dire è che è un momento di difficoltà, ne siamo consapevoli, però nel calcio ci sono e da gruppo vero, sono convinto che lo siamo, dobbiamo essere bravi a uscirne, a uscirne vincitori perché ne abbiamo le possibilità, ne abbiamo le capacità, siamo un grande gruppo, abbiamo un grande staff e quindi sono convinto che ne usciremo, dobbiamo partire da quello che abbiamo fatto probabilmente da quando eravamo in dieci, che nonostante tutto siamo comunque andati a prenderli e abbiamo creato occasioni gol, quindi dobbiamo partire da quello spirito, ricompattarci, stare sereni, lavorare bene in settimana, noi più grandi cercare di tranquillizzare magari anche i ragazzi più giovani e continuare a fare quello che sappiamo fare bene, che magari nelle ultime gare non è uscito, ma ne abbiamo le capacità, ripeto, e l'abbiamo fatto fino a poco tempo fa e dobbiamo semplicemente continuare e ritornare a farlo con grande determinazione, perché secondo me siamo un grande gruppo, ripeto, un grande staff, abbiamo tutto per poter far bene. Grazie Mattia. Grazie a voi.